Ciao a tutti ragazzi, eccoci al nostro nuovo video sulla taverna dello svapo qua in piscina per un clima estivo. Birillo, facci vedere i nuovi liquidi. Birillo, ma dove sei? Eccoli qua! Ah! Sono arrivati i nuovi liquidi per l'estate! Ora andiamo a fare una prova di svapo e qualche considerazione finale con questi due liquidi della Super, sono Crazy Night per una notte pazza e Riccibe. Questo è un tabacosa, questo invece è un dolce all'interno. Allora andiamo a drippare subito il nostro il limone si sente subito. Per me si sente tutto. Prova anche te. Si sente anche il dolce? Si, un dolce del genere. Un fan di Spagna forse, un dolce del genere. E cosa ci diamo? Io ci do un bel voto a questi orzoni che mi piacciono molto. Io 8 e mezzo. Anche io sulla terrazza. E' molto buono. Ti ricordi che ora andiamo a fare una prova di svapo con Riccibe. E' un po' della famiglia del tabacoso. Ok, andiamo alla prova di svapo. Credo dopo le mie considerazioni su questo liquido. Si sente gli agrumi. Si, il tabacco. Però io non ci vado molto. Non mi piace tanto questo questo qua. Preferisco più i cremosi o come il liquido cola. Molto più buono. Voto a quanto ci dai? Io ci devo 7 e mezzo. Io 7. Va bene. Allora vi lasciamo così dalla piscina e tutto. Un bacio.